Giovedì ci sarà un incontro con i comitati dei cittadini per parlare del raddoppio della linea ferroviaria, in particolare del progetto di interramento della stessa linea ferroviaria per quanto riguarda il centro cittadino di San Giovanni. Progetto che è stato redatto da RFI, bisogna cercare le risorse per portarlo avanti. Un progetto che sicuramente è di enorme importanza per la mia collettività, perché determina un cambiamento storico e epocale del territorio San Giovanni di Tattino, da sempre depredato dal proprio territorio, assattrezzato, aeroporto, ferrovia. Quindi oggi riconsegnare alla collettività per me è un sogno, un sogno che chiaramente deve avere i piedi per camminare. C'è stato un impegno specifico dell'ex governatore, attualmente il senatore D'Alfonso, l'amministratore delegato di Ferroviario dello Stato, Gentile, il quale ha detto che non era un problema assolutamente economico per poterlo realizzare, ma di fattibilità. Con il progetto di Ferroviario dello Stato la fattibilità è ormai definita, quindi questa sera faremo vedere il progetto alle due associazioni che ci hanno sostenuto e ai tanti cittadini che sono qui in Consiglio Comunale, che insieme a noi continuano questa avventura, che sicuramente si presta a difficoltà perché si tratta di un investimento importante in termini di milioni di euro. Stiamo parlando di quasi 150 milioni di euro, 50 milioni di euro a chilometro, perché l'abbassamento della rete ferroviaria e quindi poi successivamente il canalamento dentro del tunnel che recupereremo al territorio via Pertini e il centro di San Giovanni Tiatino è importante. Spero che tutto si risolve nel migliore dei modi, ma noi sicuramente l'osso non lo molliamo. È cambiato il governo, è cambiato il ministro delle infrastrutture, coinvolgerete anche Toninelli? Sicuramente sì, oggi approviamo in giunta il progetto e quindi decretiamo la fattibilità dell'opera e chiediamo a Ferroviario dello Stato e a Regione Abruzzo di attivarsi anche loro. Successivamente chiederò un incontro con il ministro Toninelli, al quale rappresenteremo tutte le difficoltà del raddoppio di questa linea ferroviaria, ma la necessità di realizzare quest'opera perché la nostra collettività non riuscirebbe a sopportare un ulteriore intervento, ma diciamo che la salute dei cittadini, che è a primo posto sia da parte mia che da parte delle istituzioni, debba essere in un modo o nell'altro risolta.